a fluido un saluto a Maurizio Benedetta bene ragazzi da questo momento la serata Rosa Fluido e a Orbital Live quindi non perdete l'appuntamento registratevi veramente tutto in console L'OB la voce gradisca direttamente dal Mad Music Club Agostino Michi V Maurizio Benedetta gradisca Roberto Molinaro anche forse non lo so in Consale Mixa Lello 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 Più forse ragazzi Lello 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 L Questa musica sembra un sogno 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 Grazie a tutti. 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 Tanti auguri, welcome, noi generazione a cavallo, tra il secondo e il terzo millennio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti oggi fanno gli angeli. Tienilo, questo anello è di buona fortuna. Abbiamo sconfitto la cultura dello spallo. Grazie a tutti. Sveglia. Sveglia. Grazie a tutti. Ancora un minuto. Ancora un minuto. Grazie a tutti. Gogo 3, gogo 3, raccontami storia di altre popolazioni che vivono in altri sistemi solari. Grazie a tutti. 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 Voglio... Grazie a tutti. 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 ... ... ... ... ...... 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 ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ...... ... ... Riaccio alla ricerca dello spirito E costruiremo sanatori più grandi e luminosi Perché i delinquenti di oggi saranno i dirigenti di domani Grazie a tutti 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 Grazie a tutti